ok per cambiare colore all'occhio del tuo soggetto quello che devi fare è prima di tutto selezionare l'iride quindi prendi lo strumento selezione ellittica tieni premuto il tasto shift della tastiera clicca e trascina il tuo strumento di selezione in modo da creare un cerchio perfetto e cliccando tenendo premuta la barra spaziatrice mentre crea la selezione puoi spostarti e posizionarti nella posizione in cui desideri per creare la selezione perfetta quando sei nella posizione giusta rilasci la barra spaziatrice continui a creare la selezione quando hai creato la selezione rilasci il mouse a questo punto però dobbiamo eliminare questa parte di selezione che va sopra la palpebra quindi tieni premuti i tasti shift e opzione o shift alt per pc in questo modo andremo a eliminare solo questa parte intersecando le due selezioni creare la selezione ellittica forse così è troppo per andare a seguire la curvatura dell'occhio quindi rilasci ed ecco eliminata la parte in eccesso a questo punto vai nel pannello regolazioni che se non vedi vai nel menu finestra e clicca regolazioni e aggiungi un livello di regolazione tonali da saturazione come vedi è stato aggiunto il livello di regolazione e immediatamente la maschera relativa alla selezione attiva dobbiamo prima di tutto andare a modificare la maschera quindi fai doppio clic sulla maschera si aprirà il pannello proprietà e dovrai andare a sfumare leggermente la maschera se vuoi vedere come sfuma la maschera tieni premuto il tasto opzione alt per pc fai un clic sulla maschera e vedi il contenuto quindi vediamo di sfumarla un po e riteni premuto di nuovo il tasto opzione alt per pc e fai di nuovo clic sulla maschera per tornare alla visualizzazione normale a questo punto seleziona livello di regolazione clicca su colora e vai a scegliere il colore che che ti che desideri lasciamo ad esempio un azzurro un grigio un grigio azzurro abbassiamo un po la saturazione un verde diciamo così eventualmente puoi aggiungere un nuovo livello di regolazioni valori tonali e andare a schiarire un po il colore del dell'occhio ovviamente in questo modo il livello di regolazione va ad agire su tutti i livelli sotto per far sì che agisca solo sul livello dove c'è la maschera clicca il pulsante crea maschera di ritaglio e come puoi vedere il livello agisce solo sul livello dove abbiamo la maschera di livello ora mettiamo il caso che comunque vuoi che nel tuo occhio all'inter al centro si veda comunque ancora un po il colore originale quindi cosa puoi fare duplicare il livello sfondo portarlo soprattutto e aggiungere una maschera di livello nera tenendo premuto il tasto opzione o al per pc facendo clic sulla terza sulla terza icona qui in basso nel pannello livelli come vedi viene aggiunta una maschera di livello nera prendi un pennello impostato su bianco e mettiti al centro della pupilla e allargalo un po e utilizzo un pennello morbido quindi comincia a fare diversi clic in modo da far spuntare il colore originale dell'occhio a questo punto puoi anche andare nel livello di regolazione tonità saturazione e variare i colori del tuo occhio a fare diversi Grazie a tutti